Festività significano anche controlli nell'intero territorio nazionale. 1848 ispezioni in altrettante strutture sanitarie e socioassistenziali come RSA e case di riposo da parte dei NAS, dei carabinieri. Il risultato è stato impietoso. 281 strutture presentavano delle irregolarità, cioè il 15% del totale. In particolare 143 violazioni hanno riguardato le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, pari al 38% delle irregolarità complessive riscontrate, come il mancato uso di dispositivi di protezione da parte degli operatori e la loro corretta formazione alla mancata individuazione di percorsi e aree dedicati, la programmazione delle fasi di pulizia e sanificazione. 18 strutture sono state sospese o chiuse per un valore di 11 milioni di euro complessivamente. Le verifiche hanno portato alla contestazione di 109 violazioni penali e 373 amministrative, con l'applicazione di sanzioni per un valore di 111 mila euro, deferendo all'autorità giudiziaria 83 persone e segnalandone ulteriori 287 alle autorità amministrative. Ma oltre alla carente igiene, anche episodi di maltrattamento e di abbandono di persone impossibilitate ad accudirsi autonomamente. I NAS hanno denunciato il legale responsabile di una comunità alloggio della provincia di Catania per aver lasciato soli 16 anziani ospiti, incapaci di provvedere a se stessi e accuditi solamente da due operatrici, ma in assenza di personale in possesso di qualifica per l'assistenza infermieristica e socioricreativa. Fra l'altro erano 16, 6 in più rispetto al numero previsto dall'autorizzazione sanitaria. È stato riscontrato, inoltre, che il documento di valutazione del rischio biologico da Covid-19 non era neanche stato aggiornato, né erano stati comunicati i nominativi degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza. Anche gli alimenti somministrati agli anziani non erano idonei al consumo, poiché conservati all'interno di frigoriferi inadatti, congelati e scaduti, sequestrati 25 kg di prodotti.